La fase di transizione della Fondazione Mario Negri Sud è sempre più lunga e alla fine di questo duro periodo appare sempre più lontana. Ne sono convinti capigruppo consigliari della provincia di Chieti, Camilo D'Amico, PD, Giovanni Mariotti, Sel, Eliana Menna, IDV e Nicola Tinari del Partito della Rifondazione Comunista. E di questi giorni scrivono in una nota alla stampa e capigruppo del centrosinistra la notizia che sarebbe pronto un programma di ristrutturazione aziendale che scaricherebbe interamente sui lavoratori le responsabilità per le scelte fatte negli ultimi anni e della conseguente disastrosa situazione di bilancio con un passivo di quasi 3 milioni di euro con una drastica riduzione del personale. Sono ancora soffie e sussurri, scrivono D'Amico, Mariotti, Menna e Tinari, ma la preoccupazione serpeggia forte tra dipendenti e ricercatori. Il pericolo che la situazione precipiti verso una preoccupante ingovernabilità è palese. La proroga della CIG, continuano i capigruppo, è il sintomo più evidente di una situazione di stallo che potrebbe non solo compromettere il futuro di molti dipendenti e ricercatori, ma anche cominciare a palesare la preoccupazione da noi sempre manifestata, ossia la possibilità di una fuga da questo territorio del Mario Negri di Milano. I capigruppo chiederanno urgente conto al presidente della provincia, Enrico Di Giuseppe Antonio, che è componente del CDA della fondazione e continuano a chiedere un realistico piano industriale per il futuro del prestigioso centro ricerche. C'è bisogno di sapere con certezza su chi, come e quando si pagheranno le perdite di esercizio passate, concludono i capigruppo, sollecitando un cambio di marcia con chiari segnali di discontinuità gestionali rispetto a chi è responsabile della situazione attuale. È sempre più insistente la voce di 50 licenziamenti. Grazie a tutti.